Siamo giunti quasi alla fine della preparazione, da due settimane i ragazzi si stanno allenando intensamente cercando di recuperare quanto prima la miglior condizione fisica. La squadra al momento non è ancora al complito, il mister ha chiesto alla società un ulteriore sforzo per cercare di far arrivare nel gruppo qualche altro calciatore di esperienza e come società ci stiamo impegnando per accontentare la richiesta del nostro mister. Sabato pomeriggio saremo impegnati in un amichevole a Montesant'Angelo, questa amichevole consentirà al mister di vedere la squadra sul campo cercare di preparare al meglio la prima gara ufficiale, infatti domenica 4 settembre saremo impegnati nella gara di andata di Coppa Italia sul campo del Sansevero, una partita non facile sicuramente, visto che il Sansevero ha attrezzato una squadra per cercare di vingere il campionato ma come sempre noi faremo la nostra bella figura e cercheremo di partire nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti stiamo avendo un riscontro positivo, c'è curiosità attorno al Foggia Incedit che affronterà per la prima volta questo campionato di eccellenza e la prima volta per una seconda squadra della città di Foggia e infatti colgo l'occasione, invito a chi non ha ancora sottoscritto l'abbonamento di farlo, di darci una mano, di sostenerci in questa nuova avventura e di sostenere questo gruppo di ragazzi che ricordo nel giro di 6-7 anni dalla terza categoria hanno raggiunto un traguardo così importante che è il campionato di eccellenza pugliese.